Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12, subito un aggiornamento per quanto riguarda il coronavirus nella nostra regione. Purtroppo rispetto ai dati di ieri si registrano tre decessi in più, uno per provincia, per Udine, Trieste e Pordenone, dunque dati in peggioramento rispetto a ieri. Andiamo a dare un'occhiata a quello che è il quadro riferito al 22 di aprile, i decessi fino a ieri erano 246, con i tre che si sono aggiunti questa mattina, dunque siamo a 249. Vediamo una rapida scorsa anche agli altri dati di questa tabella, con il trend dei decessi che, come vedete, ieri era arrivato a 5, oggi siamo a 3. Vedremo poi il bilancio, speriamo, non se ne aggiungano altri nel bilancio di questo pomeriggio. Proseguiamo con le grafiche, i grafici che ci dicono come procede questa epidemia, i contagi, i guariti, ieri erano 31, per un totale di 1.067, abbastanza stabile la linea nei tre giorni dal 20 al 22, questi sono grafici che partono dal 12 di aprile fino al 22, come vedete c'è un saliscendi, ma il trend è sicuramente in discesa. Andiamo avanti, proseguiamo ancora la nostra carrellata, questo è il dato dei contagi, ieri 25, 2.817 il numero dei contagiati nella nostra regione, come potete vedere anche qui si registrano degli alti e bassi, ma anche in questo caso il trend è in decisa discesa rispetto alle settimane scorse. Ed ancora andiamo a vedere il dato tra i più importanti, che è quello delle terapie intensive, siamo arrivati a 20, il dato più basso in assoluto dal 12 al 22, il dato più basso in assoluto in ogni caso, 20 pazienti nelle terapie intensive. Qui siamo su un grafico che ci mostra la situazione italiana, dove è evidente che la Lombardia è la regione più colpita, sono 69.092 i contagiati in Lombardia, un terzo, meno di un terzo in Emilia-Romagna, poi Piemonte, via via le altre regioni. Il Friuli Venezia Giulia si attesta in una posizione medio-bassa di questa graduatoria, di questo grafico, con 2.817 contagi. Adesso parliamo invece dei test a cui sono stati sottoposti gli ospiti delle case di riposo di Trieste, che sono ben 904 fino al 21 aprile a tampone per verificare la positività al coronavirus. Secondo l'ultima rilevazione, 264 pari al 29,2%, sono risultati positivi. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, su 94 residenze censite con 3.611 ospiti, riporta una nota. L'attività si è concentrata sulle 65 strutture prioritarie, che ospitano 3.090 ospiti, in base al gradiente di rischio riscontrato a causa della promiscuità con altri residenti e tipologia di pazienti. In queste strutture sono stati effettuati 904 tamponi, 30% degli ospiti, secondo criteri di priorità clinica. Nel tempo sono stati eseguiti più tamponi alla stessa persona, per un totale di 1.269, di cui 868 risultati negativi, pari al 68,4%, il 29,8%, cioè 378, sono risultati positivi. 301 persone sul 904, il 33%, hanno avuto un tampone positivo nel loro decorso clinico. Essendo i tamponi ripetuti nel tempo, l'ultima rilevazione sulle stesse 904 persone segnala 264 positivi, mentre il numero dei negativi sale a 633, con uno 0,8% di risultati incerti da ripetere. Per ora vi sono 49 residenze esenti da contagio, alcune con percentuali bassissime di ospiti con tampone positivo, ed altre invece maggiormente impegnate. Verso la fase 2, il Presidente del Consiglio Conte ha chiesto a tutti i Ministri di predisporre un documento sui rispettivi settori per avere un quadro più articolato possibile delle questioni che necessitano ancora chiarimenti, in vista delle riaperture. Le indicazioni dei Ministri verranno poi inviate al Comitato Tecnico Scientifico, in modo che gli esperti possano fornire le risposte su singoli settori e argomenti. Intanto possiamo farci una prima idea di quello che ci aspetta dal 4 maggio in poi, in alcuni casi anche dal 27, visto che si parla di qualche riapertura che potrebbe avvenire una settimana prima. Vediamo in questa infografica dell'ANSA quali sono i punti principali del nuovo DPCM su cui Conte sta lavorando. incontri e spostamenti. Cosa cambierà in particolare per questi due momenti della nostra vita? Allentare i divieti di spostamento, ma senza rischiare di aumentare i contagi. Questo è l'obiettivo. Potrebbe essere ampliata la distanza di sicurezza. Gli spostamenti tra i comuni potrebbero essere consentiti, ma non quelli tra le regioni. bisognerà ancora mantenersi ad almeno un metro di distanza, in certi casi due metri di distanza uno dall'altro. Chi ha più di 70 anni e avrà patologie e ha patologie pregresse importanti potrà subire delle restrizioni negli spostamenti. Si potrà passeggiare, correre, fare sport all'aperto anche lontano da casa, purché lo si faccia da soli. Per le palestre invece il discorso è un po' più complicato, diciamo così, perché potranno tornare soltanto più in là e con delle restrizioni molto più specifiche per quanto riguarda i contatti sociali e gli assembramenti, così come per gli estetisti, i parrucchieri e i barbieri che dovranno provvedere ai dispositivi di sicurezza per effettuare la loro prestazione in totale protezione sia di chi lavora che dei clienti. Per i viaggi in aereo, come vedete, bisognerà utilizzare alcune accortenze, sarà previsto un massimo di passeggeri sia sulle navette che sugli aerei, bisognerà presentare una autocertificazione indicando luogo e indirizzo di destinazione da anche quanto tempo si starà fuori e poi mascherina obbligatoria a bordo, ma se si vola con un familiare o con un minore questa misura non verrà applicata. L'orientamento sugli stabilimenti balneari sarebbe di tenerli aperti con una distanza molto ampia tra loro e si potrà accedere ai lidi soltanto fino all'esaurimento dei posti, un limite che verrà fissato naturalmente in base alla grandezza, allo spazio che sarà a disposizione. Adesso parliamo di fase 2, di ritorno al lavoro, facendo però un piccolo passo indietro a quelle aziende, ma soprattutto a quei dipendenti, a quei lavoratori che sono in cassa integrazione e che attendono di vedere le aziende, che attendono di vedere i lavoratori di grossura liquidata, la cassa integrazione, l'Inps ha promesso che lo farà a breve, ha fatto il punto, lanza nel servizio che vi proponiamo. Oltre 5 milioni di domande per circa 9,5 milioni di beneficiari arrivate finora all'Inps per usufruire delle prestazioni legate all'emergenza coronavirus, di cui 3,5 milioni di bonus da 600 euro, già liquidati su 4,4 milioni di richieste, e l'impegno a pagare la cigo ordinaria entro la fine di aprile. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, fa così il punto sulle misure messe in campo con il decreto Cura Italia per aiutare i lavoratori, le imprese e le famiglie, dalla cassa integrazione ai congedi straordinari Covid-19, dal bonus babysitting alle indennità per gli autonomi, liberi professionisti, collaboratori, lavoratori stagionali e dello spettacolo. Misure per una cifra di 15 miliardi che potrebbero arrivare a 25-30 miliardi nel prossimo decreto di aprile. Intervenendo in audizione presso la Commissione Lavoro della Camera per rispondere sul tilt del sito e dell'Istituto verificatosi il primo di aprile, Tridico torna a chiedere scusa per il disservizio, rimarcando che ci sono stati diversi attacchi informatici e un afflusso enorme di utenti, ma sottolineando anche il grande sforzo e la generosità con cui l'Inps ha affrontato la situazione e risposto con impegno. Il numero 1 dell'Inps assicura poi l'impegno a rispettare la data di fine aprile per pagare anche la cassa integrazione ordinaria, mentre sulla CIG in deroga il termine non può essere il 30 di aprile. Eccoci tornati in studio per parlare adesso della mappa dei contagi nel mondo ed in Europa. Vedete il quadro dell'aggiornamento che viene effettuato in tempo reale dalla John Hopkins University con tutte le aree interessate da questa epidemia, un totale per quanto riguarda l'Europa di 227.195 casi confermati, più 4.742 rispetto al giorno precedente, di cui 145.694 nella sola Germania. Sono stati registrati nei paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e aggiornati alla mattina del 22 aprile. I decessi registrati nell'area sono stati finora 7.633, di cui 4.879 in Germania, 483 in Romania, 463 in Austria, 401 in Polonia, 225 in Ungheria, 201 in Cecchia, 174 in Ucraina, 130 in Serbia, 121 in Grecia. Per parlare della situazione in Germania dovremmo essere in grado di collegarci con una italiana residente a Berlino, Erika Giorgianni, che divide la sua vita tra la Germania e l'Italia per seguire i festival del cinema. Parliamo con Erika, buongiorno Erika, della situazione in Germania. Come ha potuto ascoltare, la Germania ha un numero considerevole di casi, in aumento, però rimane il paese con un tasso di mortalità tra i più bassi, se non il più basso d'Europa, quindi c'è sicuramente preoccupazione per il contagio, ma c'è anche la consapevolezza che dal punto di vista della mortalità il tasso è basso. Al di là di questo, per quanto riguarda il discorso, in Italia c'è un dibattito aperto su delle aperture, su questa fase 2, come viene definita in Italia. Come si sta vivendo in Germania questa fase? Ci sono le stesse restrizioni che abbiamo in Italia? C'è modo invece di fare qualcosa in più rispetto a noi? Allora, dobbiamo dire che chi poteva lavorare da casa, ha già cominciato a farlo da fine marzo, ma non si è prigionieri a casa, nel senso che si può uscire, quindi non c'è il diveto di uscita, e si può uscire al massimo in due, o se il nucleo familiare consiste di più persone, anche naturalmente in più. I parchi sono sempre rimasti aperti, quindi per l'utilizzo, per lo sport individuale, per jogging, per passeggiate. I negozi hanno riaperto adesso già dal lunedì 20 aprile, hanno cominciato a riprire i negozi fino a 800 metri quadri di superficie, i rivenditori di macchine, i negozi di biciclette, le librerie, e Berlino invece ad esempio li abbia aperti solamente ieri. Comunque continua ad esserci il divieto di contatto e il divieto di spostamento, se non è proprio necessario, fino al 3 maggio. Continuano pure ad esserci il divieto dei grandi assembramenti, quindi anche quelli religiosi, e dei grandi eventi fino al 31 agosto. Senti, per quanto riguarda invece le scuole, perché un altro dibattito da noi interessa molto le scuole, probabilmente in Italia non si riuscirà ad entrare negli istituti entro il 18 maggio, che è la data indicata per provare quantomeno ad effettuare gli esami di maturità in una forma più vicina a quella tradizionale, però ci sono dubbi addirittura anche per la prossima stagione. Com'è invece la situazione in Germania? Cosa si prevede per quanto riguarda le scuole? Allora, in Germania si pensa generalmente di tornare sui banchi di scuola intorno al 4 maggio, naturalmente prima le classi terminali di quest'anno, quindi che hanno gli esami finali, poi quelle penultime, quindi con gli esami l'anno prossimo, e poi l'ultima classe delle elementari. Si pensa appunto al 4 maggio, però non c'è una disposizione generale per tutta la Germania, si cambia a seconda del Land, per cui ad esempio in alcuni Land si comincerà già prima del 4 maggio e in altri dopo. A Berlino ad esempio, già da questo lunedì, 20 aprile, sono cominciati gli esami di maturità, dal prossimo lunedì 27 aprile ritorneranno sui banchi di scuola le cosiddette decime classi, che sono le classi conclusive della Real Schule, che corrisponde in Italia al nostro istituto tecnico, mentre in Baviera si è proprio stabilito un modello di ritornare a scuola diviso per tre scaioni. Dal prossimo lunedì 27 aprile torneranno appunto a scuola le classi terminali di quest'anno, con gli esami finali, dall'11 maggio le penultime classi, mentre per quanto riguarda tutte le altre classi si è soltanto deciso che torneranno sui banchi di scuola quest'anno, ma non è stata stabilita ancora la data. Cosa sicura è che comunque entro fine aprile i ministri di cultura dei vari lenda decideranno le misure da prendere in modo da garantire una ripresa scolastica, ma nel rispetto delle norme igieniche. Per cui ad esempio in Baviera hanno già deciso di limitare la presenza di alunni in aula a 10 o 15. Tendenza generale è comunque di sviluppare ancora la digitalizzazione e dell'insegnamento in modo da poter garantire anche a insegnanti o alunni che sono a rischio la possibilità di svolgere la lezione anche a casa. In Baviera comunque non è stato... Ti chiedo una cosa, sulla scuola il discorso è molto chiaro, rispetto a noi c'è molta più chiarezza, questo lo dobbiamo dire, ma è evidente però che dipende anche dal fatto che in Germania, come dicevamo, pur essendoci molti casi di contagi ancora in crescita, come abbiamo letto dai dati, c'è una situazione sotto controllo dal punto di vista dell'evoluzione di questa epidemia. Per quanto riguarda invece il tessuto economico della Germania, perché un altro dibattito apertissimo nel nostro paese è quello degli aiuti alle imprese, che cosa è successo in Germania? Perché qui le nostre piccole e medie imprese, in particolare, attendono ancora di poter disporre di quella liquidità che serve per riattivarsi e mettere in moto di nuovo l'economia. In Germania come sono andate le cose? Cosa è successo nel momento in cui c'è stato il lockdown per le imprese? Allora, lo Stato tedesco è già intervenuto con due decreti e ha stanziato 156 miliardi di euro per appunto scongiurare il fallimento delle piccole e medie imprese e delle imprese più piccole. Allora, per quanto riguarda le PMI con un numero di dipendenti da diciamo 11 a 50, possono usufruire di quello che in Germania si chiama Schnellcredit, ovvero il credito veloce ed è una somma che può arrivare fino a 500 mila euro ed è basata sul fatturato di tre mesi dell'anno scorso. Mentre le PMI con un numero di dipendenti maggiore, quindi da 50 a 250, per loro la somma può arrivare fino a 800 mila. Diciamo che questo credito vi è la garanzia dello Stato al 100%, alla durata di 10 anni e il tasso di interesse è del 3%. E rispetto a quello che era stato stabilito nel primo decreto, qui adesso il merito dell'azienda viene considerato in base non anche alla percezione di quello che potranno fare in futuro ma soltanto della loro situazione passata. Per quanto riguarda invece le attività quelle più piccole, quindi con un numero di dipendenti fino a 10, lo Stato tedesco ha stanziato 50 miliardi e queste possono beneficiare del cosiddetto sofort, hilfe, aiuto immediato, quindi per poter pagare le rate di leasing, le bollette, gli affitti eccetera. Le attività con un numero di dipendenti fino a 5 potranno ricevere fino a 9 mila euro, mentre le altre con un numero di dipendenti da 6 a 10 fino a 15 mila. L'importante è dire che questi aiuti immediati sono a fondo perduto e nel caso uno bisogna comunque queste aziende non dovranno restituire questi soldi purché servano a pagare queste spese relative all'emergenza economica, nel senso che la crisi purtroppo non permette di onorare queste scadenze e quindi purché si faccia quello, cioè che non si spendano per altro. No, appunto, e per questo vagano per tre mesi, quindi se in questi tre mesi uno dimostra che le proprie spese sono state inferiori, invece bisogna restituire la differenza. Bene, per quanto riguarda invece il calcio, ultimissima cosa rapidamente, Erika, la Germania è stata la prima a rispedire in campo i propri calciatori delle proprie squadre della Bundesliga. Anche in questo caso sottolineiamo che ogni paese è diverso dall'altro per come si è sviluppata l'epidemia ed anche in questo caso la Germania, che finora ha una situazione sotto controllo, si è potuta permettere di fare questo evidentemente. In questo momento quante sono le squadre? Cosa sta succedendo tra i club della Bundesliga? C'è la certezza oppure ancora soltanto un'ipotesi, quella del ritorno del campionato? Allora, proprio stamattina alle 11 adesso si incontrava la Dolce Fuspa Liga per decidere la data del rientro. Si pensa tra metà e fine maggio anche se i primi ministri della Baviera e del Nordrhein-Westfalen vorrebbero già il 9 maggio. Comunque le squadre hanno già ricominciato ad allenarsi, già dai primi di aprile, ad eccezione dell'Augsburg e del Borussia Dortmund che hanno cominciato già a marzo, tutti gli altri invece dal 6 aprile per essere appunto pronti. Naturalmente ci sono condizioni diverse rispetto a quelle solite, quindi ad esempio i giocatori non possono fare le docce, lì non possono usufruire delle mense, anche gli esercizi sono diversi, vengono fatti in un massimo di gruppo di 8 persone, alcuni esercizi come ad esempio i duelli oppure i colpi di testa non sono permessi per motivi di sicurezza e quindi ad esempio le squadre hanno anche usato l'occasione per sviluppare un po' la propria creatività e magari sfruttare questa occasione per esercitare altri aspetti come ad esempio la precisione dei tiri con un tirassegno gonfiabile appunto maxi come fa il Bayern, eccetera. Va bene, grazie Erika, sei stata molto dettagliata in tutte le tue spiegazioni, ci interessava capire in maniera approfondita quello che succede in Germania, la cosa che più ci ha colpito è che sono arrivati fondi, soldi a fondo perduto per le aziende in Italia di questo purtroppo non si parla, si parla soltanto di liquidità attraverso le banche quindi c'è un po' di discussione politica e non in questa direzione. Ti ringrazio Erika, ringraziamo Erika Giorgiani da Berlino per averci illustrato nel dettaglio la situazione della Germania in questa emergenza coronavirus e adesso andiamo a parlare dei controlli vi diamo i numeri, dei controlli dati e dei controlli effettuati ieri dalle forze dell'ordine nella nostra regione 4211 le persone fermate e controllate le sanzionate 144 2 per false dichiarazioni di identità nessuna persona è stata denunciata per essersi allontanata da casa e poi 11 le persone invece denunciate per altri reati 1.195 le attività o gli esercizi commerciali controllati con 6 sanzioni, 0 chiusure provvisorie e 0 chiusure di attività o esercizi rimaniamo ancora nell'ambito di controlli delle forze dell'ordine di quello che è successo ieri a Sacile vi parliamo perché oltre ai controlli sul territorio finalizzati al Covid-19 sono stati ovviamente anche effettuati altri interventi di attività di contrasto alla criminalità in questo caso parliamo di droga nel pomeriggio di ieri i militari della Radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio un 19enne della Repubblica del Gambia residente a Pordenone, rifugiato politico nulla facente, regolare sul territorio con specifici precedenti di polizia alle 16.30 il giovane veniva controllato in piazza Libertà a Sacile nei pressi della stazione ferroviaria appena sceso dal treno dimostrava nervosismo sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 100 grammi circa di marijuana avvolta in una borsa di nylon sequestrata unitamente ad un telefono cellulare di intesa con la Procura della Repubblica di Pordenone sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della droga probabilmente acquistata nelle aree di spaccio del Veneto e quali fossero i potenziali acquirenti consumatori nella considerazione che il quantitativo sequestrato non giustifica l'uso esclusivamente personale è ancora cronaca un incendio si è sviluppato poco dopo la mezzanotte in una auto rimessa di via la Tisana a Castions di strada sul posto sono giunte squadre della sede centrale di Udine e del distaccamento dei vigili del fuoco di Codroipo il locale interessato è adiacente al prefabbricato principale che grazie all'azione di contenimento delle fiamme non ha coinvolto l'immobile principale adibito ad abitazione l'allarme sta rodato dai residenti probabilmente si è trattato di una esplosione di un serbatoio di GPL per fortuna non ci sono stati danni alle persone è andata soltanto distrutta questa Y10 che avete visto nella foto che era parcheggiata all'interno di un box e adesso parliamo di turismo ieri sera negli speciali del Tg abbiamo parlato dei settori del vino del food, dell'agroalimentare dunque della ristorazione vogliamo proprio un passaggio di un intervento di Lucio Gomiero direttore di Promoturismo FWG e di Filippuzzi che è presidente di AgroFWG l'associazione che raggruppa i produttori del settore si è parlato anche della nuova domanda il nuovo tipo di domanda che potrebbe arrivare dal mercato in funzione di questa emergenza sentiamo Gomiero e Filippuzzi il Covid ci lascia un'eredità digitale che l'enogastronomia deve sfruttare a pieno quando parliamo di turismo di prossimità dobbiamo pensare sì alla nostra regione all'Italia però ci viene spontaneo pensare all'Austria quindi dovremmo trovare dei protocolli anche per accogliere i turisti da quella parte noi abbiamo delle sfide di sistema abbiamo una strada di vino dei sapori della regione con 330 aderenti noi stiamo lavorando perché questa squadra cresca di tante decine in modo da uscire ancora più forti pensiamo per chiudere che ci sia attraverso i progetti che prima abbiamo parlato anche con Filippuzzi quello del fatto di poter promuovere meglio quello che è un prodotto del Filippo Venezia Giulia quello che è una facilità di consegna a casa al momento dei nostri prodotti una sfida per il futuro e qui chiuderei le persone non possono viaggiare oppure viaggeranno meno poco i ricordi viaggiano le merci viaggiano e quindi da questo punto di vista anche i sapori viaggiano ecco quindi da questo punto su questo noi dobbiamo contare di far arrivare comunque ai non viaggiatore ai non turisti che possiamo accogliere tutti quelli che sono i messaggi e i prodotti per fare in modo che il loro ricordo resti forte ci consenta poi alle ripartenze che ci saranno progressive di poter tornare sulle nostre spiagge sulle nostre montagne sulle nostre colline direttamente e fisicamente questo era un altro un altro degli interventi non quello che avevamo annunciato che vi riproporremo nei prossimi telegiornali adesso parliamo delle celebrazioni per il 25 aprile al tempo del coronavirus intanto vi annuncio e vi anticipo che sabato sera 25 aprile alle 21 manderemo in onda una trasmissione realizzata da Alberto Terasso sul tema del 25 aprile al tempo del coronavirus intanto vi anticipiamo qualcosa collegandoci con Dino Spanghero che è presidente della provincia di Udine dell'Ampi per capire come si svolgeranno queste celebrazioni ha parlato oggi anche il presidente della Camera FICO ha detto il 25 aprile la festa di tutti quei principi in Costituzione ancora più attuali oggi c'è stato anche un intervento del vice segretario del Partito Democratico Orlando l'ex ministro che ha detto sarebbe giusto che i rappresentanti dell'Ampi partecipassero a queste manifestazioni a quel poco che si potrà fare insieme ai sindaci a chi farà qualcosa per ricordare per celebrare il 25 aprile buongiorno Spanghero allora ci dica com'è la situazione buongiorno a voi e a chi ci ascolta e ci vede ma diciamo che la questione di presenza dell'Ampi alle manifestazioni sobrie che ci saranno per il deposito delle corone per l'omaggio ai vari monumenti la questione si è risolta favorevolmente il ministro dell'interno il Lamorgese con una nota ai prefetti ha chiarito il senso della circolare Fraccaro nel senso che la finalità in fin dei conti della circolare era quella di vietare assembramenti quindi il fatto non ci saranno quindi assembramenti alle celebrazioni di Udine del 24 del 25 aprile solo in ogni luogo ci sarà un rappresentante Ampi diciamo le proteste che l'Ampi nazionale aveva svolto riguardo appunto ai bivieti di essere presenti hanno avuto una logica crediamo una logica risposta in quanto il 25 aprile come ha detto poi il Presidente della Camera è la festa di tutti non solo di una parte degli italiani per questo ci sarà la possibilità ci sarà la possibilità di essere presenti dunque per l'Ampi ci sarà un rappresentante dell'Ampi non ci saranno assembramenti logicamente munito dei prescritti presidi come ordinano le varie ordinanze ma comunque ci sarà uno uno per ogni luogo dove verranno deposte le corone e dove saranno appunto ricordati i morti e sarà ricordata la liberazione bene questa è una buona notizia non ci si limita logicamente a questo noi come Ampi abbiamo preparato un avvicinamento al 25 aprile che è partito dagli inizi del mese di aprile con una serie di newsletter pubblicate sul nostro sito in cui ricordiamo i vari passaggi i vari personaggi i vari avvenimenti poi abbiamo costruito una una serie di video che andranno in onda dal 25 aprile il 25 aprile stesso e poi successivamente uno curato dai ragazzi delle scuole medie che riguarda l'interpretazione dell'alba sulla città il libro che riguarda l'unico libro che parli della liberazione di Udine cioè la liberazione di Udine vista con gli occhi di un ragazzo di 13 anni e queste letture appunto ci faranno rivivere quei momenti poi ci sarà una lettura dei temi che sono posti all'interno della Costituzione nostra da parte dei ragazzi del palio studentesco di Udine e infine un assemblamento di voci che partono con l'indirizzo di saluto dell'AMPI con la lettura da parte del sindaco di Udine della motivazione della medaglia d'oro alla città di Udine e al Friuli per la resistenza e quindi un inizio augurale del professor Floramo e poi un assemblamento di voci che provengono dalle varie istanze della società friulana dall'università dal mondo della politica delle istituzioni dello sport dell'associazionismo un assemblamento di voci che vogliono essere un unico messaggio di un unico messaggio Occhio a parlare di assemblamento No 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 assemblamento assemblamento di voci Qualcuno potrebbe No 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 assemblamento di voci tutto questo sarà sarà pubblicato sul nostro sito logicamente e su Facebook Bene grazie grazie a Dino Spanghero dunque chi vorrà seguire la celebrazione per il 25 aprile potrà farlo come un po' tutto quello che facciamo in questi giorni anche via digitale e adesso vi lascio al meteo le previsioni di giornata a cura dell'Osmer la tendenza per i prossimi giorni da parte mia è tutto buon proseguimento con Udinese TV Buongiorno per quanto riguarda il tempo ancora alta pressione sull'Europa centrale fa fluire aria secca sulla regione per cui giornata odierna con cielo sereno bora moderata in pianura lungo la costa temperature massime che arriveranno 24 gradi in pianura nel pomeriggio 22 sulla costa e così anche nell'area di Tolmezzo per la giornata di domani al mattino cielo sereno temperature minime intorno agli 8 gradi in pianura 10-11 sulla costa in montagna valori simili a quelli odierni per il pomeriggio di domani avremo un leggero aumento della nuvolosità per velatura ad alta quota temperature massime intorno ai 24 gradi in pianura 20 sulla costa dove i 20 saranno regime di brezza e quindi la bora cesserà poi per quanto riguarda sabato cielo in genere poco nuvoloso o al più variabile nel pomeriggio sui monti dove non è escluso qualche breve rovescio la previsione per domenica vede al momento cielo variabile con la possibilità di qualche debole pioggia locale buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.